Solo da Seregno con numero 112, sono 5 concorrenti. Questi dovrebbero sapere votare. Questi molto probabilmente sono quindi chi alleno io, vanno dall'altra parte. E io gioco forte. Da 1 ai 10 questi qui valgono 11. Adesso proviamo le scommesse. Chiedi un po' al pubblico se il prossimo caro non va di là. Alla signora lì che sta guardando. Signora? No, la signora Amora. Amora, Amora. Secondo lei ce l'ha parata a superare i nostri eroi la bittina? Ma certo! Ma certo! Quanto gli hai dato? 100! Eh? Grande, gali, fai poco il fumo. Eh Silvio, quanto l'hai pagata per dire certo? Perché sai chi arriva. Attenzione! Ok, fuma eh. Michael! Sono pronto! Migliori! Grande Manuel, sei numero uno, cioè sei numero uno. Ma i Mirko, sono loro i canottieri di Seregno. I primi ad andare oltre. Non è finita! Sì ma, sai perché io ho detto che non arrivavano? Grazie. È perché volevo fare quello che... Ah, un po' di... Sì, un po' di suspense. Mirko, grazie!